Lo temo nel reggisengo. Jessica Morlacchi al Grande Fratello, perché ha sempre un fazzoletto di carta lì Il Grande Fratello è appena iniziato e il pubblico sta imparando a conoscere i nuovi inquilini della casa Alcuni di loro sono già noti, ma certo vederli H24 davanti alle telecamere cambia e non poco le cose Tra i VIP c'è anche Jessica Morlacchi, la cantante e volto della TV che ha conquistato subito tutti con simpatia e genuinità nel corso della prima puntata Anche su di lei i telespettatori stanno scoprendo carattere e abitudini e una di queste ha incuriosito anche i coinquilini Che col passare delle ore si sono accorti di quella che sembra proprio una stranezza Jessica Morlacchi nella casa del Grande Fratello ha sempre con sé un fazzoletto di carta che conserva nel suo reggisengo Ma perché? Jessica Morlacchi al GF, perché ha sempre un fazzoletto nel reggisengo In serata i geffini hanno chiesto a Jessica Morlacchi il motivo per il quale ha sempre questo fazzolettino di carta a portata di mano E la cantante le ha raccontato il problema che le si è presentato dopo essersi sottoposta a un intervento di estetica al naso Da sempre lo uso, da quando mi sono operata al naso, ha spiegato, poi è entrata nel dettaglio Da quando ho rifatto il naso non respiro, che può capitare e può non capitare Feci il naso per estetica, avevo il setto nasale largo Lo volevo piccolino Sono casi che succedono Jessica Morlacchi ha continuato spiegando di essersi sottoposta a tre operazioni per cercare di risolvere il suo problema Il naso è una cosa troppo delicata Mi sono operata tre volte Il nuovo chirurgo mi ha sistemato, mi ha aiutato dal lavoro vecchio che mi era stato fatto Vivo così, con il fazzoletto Stando al suo racconto nella casa del grande fratello, dopo un primo intervento nel 2021 la cantante si è operata una terza volta e a prendersi cura di lei un medico che l'avrebbe aiutata con la respirazione Ancora oggi, però, la concorrente è costretta a utilizzare spesso un fazzolettino di carta per soffiare il naso Che tiene nel reggiseno perché ha portata di mano